Assunzioni sospette al comune di Agropoli, un tema tornato alla ribalta nelle ultime settimane con il Movimento 5 Stelle che lo ha più volte sollevato sia in Consiglio Comunale che al di fuori con la richiesta, fin anche ai parlamentari, di un'interrogazione per far luce sulla questione. Il sindaco Adamo Coppola torna a gettare acqua sul fuoco e prova a chiudere definitivamente la vicenda. Ma esistono due tipi di minoranze, una minoranza costruttiva e collaborativa e una minoranza distruttiva che secondo me ha solo l'obiettivo di creare polemiche, confusione, casino e questa è la nostra minoranza che abbiamo oggi. Sulla questione delle assunzioni abbiamo più volte ripetuto quali sono le ragioni che ci hanno spinto ad agire e ora ve le dirò, quelle ragioni politiche. Per quel che riguarda invece l'aspetto tecnico, quello che viene contestato, io sono assolutamente certo che tutte le procedure svolte sono totalmente rientranti nella normativa. abbiamo già avuto un primo risponso dagli organi inquirenti che hanno valutato le nostre procedure considerando il luogo a procedere, quindi vuol dire che le procedure sono state fatte bene. Altri organi inquirenti, quali la Corte dei Conti, stanno valutando tutte queste procedure e noi con tranquillità aspettiamo il loro risponso. Credo che a questo punto non si può fare altro che attendere il risponso definitivo. In altri mondi come quello della scuola, quello della scuola forse è l'esempio più calzante, più facile da capire. Se c'è un nostro giovane che va a lavorare per farsi le ossa e per fare punteggio a Milano, a Torino, lontano quindi dalla sua città, dopo che si è fatto valere e acquista il punteggio necessario, cosa pensa di fare? Pensa di tornare vicino alla sua città e quindi cerca un avvicinamento. Non mi pare che c'è una logica diversa anche nel caso delle forze dell'ordine. Quante persone facendo parte dell'arba dei carabinieri piuttosto che della polizia cominciano la loro carriera e sono costretti ad andare lontano dalla loro casa per lavorare? E quanti di loro poi, una volta che hanno fatto un inizio di percorso di vita, cercano di riavvicinarsi alla loro casa, al loro luogo di nascita, di provenienza? No, penso che sia una cosa del tutto legittima, del tutto normale. Questo succede anche negli enti pubblici. Il comune non è diverso dalla stazione dei carabinieri, non è diverso da una scuola. Quindi se c'è stato un ragazzo di Agropoli che ha vinto un concorso, come è successo, a Firenze, piuttosto che a Sesto Fiorendino, piuttosto che a Milano, piuttosto che a Torino. E dopo aver vinto un concorso legittimo, aver lavorato ed essersi fatto valere lontano dalla sua città, ha chiesto con il meccanismo della mobilità di tornare nella sua città. Credo che non ci sia assolutamente niente di male. Credo che noi, a tutti quelli che ne hanno avuto la possibilità, ne hanno fatto richiesta di potersi avvicinare e avendono le caratteristiche qualitative e tecniche, gli abbiamo dato la possibilità, non vedo che non ci sia niente di male, non vedo quale sistema cliente rale. Soltanto persone che peraltro si sono fatte, come ho detto Valeria, hanno vinto i concorsi non qui, ma hanno vinto i concorsi in posti centenari di chilometri da qui. E poi hanno chiesto con il sistema della mobilità che esiste, ripeto, in tutti gli enti, non solo nei comuni, di tornare poi a casa loro, non prendo che non ci sia niente di male. Se poi dietro questo si vogliono leggere delle cose negative, lo si può fare, naturalmente, ma è lontano dalla nostra mentalità. Poi voglio ricordare a chi racconta questo che non ci sono soltanto persone di Agropoli, che, come dire, quindi ipotetici, anche elettori ad Agropoli, ma ci sono persone che hanno fatto la mobilità, che vivono in comuni limitrofi, non solo di Agropoli. Se era un sistema clientelare, come qualcuno dice, vuol dire che devono essere tutti quanti di Agropoli. Eppure c'è gente di Capaccio che lavora al comuno di Agropoli, c'è gente di Pregnano, c'è gente di Laureana, c'è gente di comuni anche limitrofi, di Castellabate, mica di meno di Agropoli sono tutti del comuno di Agropoli, sono dipendenti del comuno di Agropoli, ma sono residenti in tanti altri comuni. Quindi quale sistema clientelare? Io penso che, come ho spesso avuto modo di dire, insomma, che si sta esagerando.